Ci sono circa 30 dettagli segreti all'interno del trailer di GTA 6, oggi li andiamo a scoprire insieme in questo video. In alto a sinistra c'è scritto che il trailer è solo il primo, ovviamente ne arriveranno altri nel corso del tempo. Ma procediamo con l'analisi e mi raccomando lasciate ora un like se volete analisi di altri trailer e ovviamente quando il gioco uscirà arriverà sul mio canale ed iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche altrimenti vi perderete tutti i prossimi video. Qui potete già notare che in lontananza sembra esserci una struttura che assomiglia in realtà ad una prigione e questo ci sarà molto utile, questo dettaglio, perché lo andremo a recuperare tra pochissimo. Si nota in lontananza la città di Vice City, ci sono proprio i palazzi, in generale ci sono tutti i grattacieli e notiamo che a schermo ci sono veramente tantissime cose, notiamo tante auto in basso, di solito i giochi non è che hanno così tante cose a schermo contemporaneamente. Ovvio questo è un trailer, bisognerà vedere poi il gioco completo. In alto a sinistra notiamo ad esempio uno stormo di uccelli, in alto a destra un aereo, quindi a tutti i costi Rockstar ci vuole far comprendere che il gioco sarà ricco di eventi che accadono in contemporanea. Nella scena successiva iniziamo a vedere finalmente proprio la prigione di cui parlavo poco fa. Probabilmente è lo stesso identico edificio che abbiamo visto in lontananza. Ed è qui che c'è una scena subito interessantissima, perché ci sono varie cose da notare. In primis c'è Lucia, lei è la prima protagonista di GTA 6, proprio perché in realtà i protagonisti sono due, se guarderete tutto il video lo andremo a scoprire insieme. Lucia è all'interno della prigione, ce lo fanno comprendere mille dettagli, la brandina su cui dormire, possiamo vedere anche i suoi abiti, ma poi soprattutto l'esterno, si vede che si tratta di una prigione, lei sembra essere stata chiamata da qualcuno, è stata convocata per una motivazione, e possiamo notare in basso a destra un dettaglio. C'è infatti una foto che ritrae quattro persone, probabilmente quella è la sua famiglia, anzi è quasi certo, e sembra esserci oltre ai genitori, quindi un fratello o una sorella. Nella scena successiva vediamo appunto che lei è stata convocata, come nella scena precedente, la cosa è confermata, e possiamo vedere appunto come le viene chiesto per quale motivo è qui. Possiamo vedere quindi un intero ufficio dove ci sono varie foto, probabilmente legate a questa donna, lei dice che forse è stata sfortunata, per quale motivo? Quindi ci sono già dei collegamenti alle motivazioni per le quali lei è stata praticamente arrestata, e avremo di sicuro altri dettagli nel corso di questo trailer. Possiamo notare qui poi uno yacht, a conferma quindi che ci saranno non solo veicoli da terra, ma anche veicoli via mare controllabili, un po' come visto anche in GTA V, e poi vediamo subito una fauna marina, cioè questi credo siano delfini, non mi sembra siano squali, anzi forse questo a destra sì, non so se lo notate nella parte centrale. Vediamo poi nella scena successiva finalmente Vice City, la zona però quella riguardante la spiaggia. Qui possiamo notare, vabbè, oltre ovviamente ad un colpo d'occhio pazzesco, perché vediamo degli edifici molto alti, ma soprattutto, cioè proprio questa scena ti fa comprendere quanto la città sia grande, estesa, enorme, e si estende non solo chiaramente in orizzontale, ma anche in verticale, perché gli edifici sono molto alti, e sono curioso di scoprire quanto questi edifici siano esplorabili. Considerate che anche qui in alto a sinistra c'è quello che sembra un elicottero, quindi gli sviluppatori stanno cercando a tutti i costi di far notare che ci sono i veicoli in ogni singola scena, quasi. Anche un altro veicolo, in realtà in alto a destra, dove c'è scritto perché fare un 69 quando puoi fare un 919. Non entro nel dettaglio perché magari qualcuno può aver capito, qualcuno no, non mi esprimo. Abbiamo questa scena in cui possiamo notare un edificio veramente altissimo, ci sono diverse palme, probabilmente siamo sempre nella zona della spiaggia, quindi forse questi edifici affacciano direttamente sulla spiaggia. E passiamo poi a tutt'altra zona, e qui vediamo un botto di animali. Sono soprattutto fenicotteri, ne sono veramente un botto. Io mi auguro che tutti questi animali possiamo ritrovarli poi veramente all'interno del gioco, e che questo non sia solo un trailer. E notiamo anche in realtà un altro, anzi altri due da che vedo, altri due animali, sono due coccodrilli. Quindi uno direttamente tra due fenicotteri, l'altro in basso a sinistra, a simboleggiare quindi che ci sono anche animali feroci. Passiamo alla scena successiva che è molto esplicativa. Occhio, qua ragazzi abbiamo un'altra visione nuovamente sulla spiaggia, prospettiva ovviamente completamente diversa. Possiamo notare che ci sono due persone nella zona centrale che corrono, un cane che mi sembra, non so se è un chihuahua, comunque un cane di piccola taglia. E poi possiamo notare varie scene, qualcuno che si mette la crema, qualcuno che sta discutendo, qualcuno addirittura in basso a destra, notate che sta facendo la foto a una parte intima di una persona. Abbiamo altri veicoli, così come anche nell'acqua. Ancora una volta ci vengono mostrati altri veicoli che erano già presenti, alcuni di questi anche in GTA V, quindi non sono sempre solo novità. Qui possiamo notare una nave cargo enorme e poi altre imbarcazioni un attimino più piccole. Vedete, sono tutte e tre diverse, soprattutto quella a destra, però mi pare c'era anche in GTA V pure questa. E passiamo ad una scena successiva in cui c'è una supercar con una donna seduta dal lato del passeggero. Possiamo notare, tra l'altro, qualcuno che la sta filmando alle spalle, Cioè, notate, mi sembra ci sia una persona con un cellulare in mano che le sta facendo un video. Ma non si sa se è una challenge, una sfida, un momento di festeggiamento, di divertimento, non si sa. Ma un altro dettaglio che possiamo notare qui sono, diciamo, le indicazioni stradali che possiamo vedere in alto. Quindi leggiamo Kelly Country, possiamo vedere che c'è anche l'indicazione per l'aeroporto, Stockyard Downtown, quindi queste, ovviamente, saranno tutte zone che potremo vedere all'interno della città di Vice City. Sempre nella stessa scena, ma andando leggermente più avanti, c'è lei che alza le mani. Quindi sì, sembra essere un momento in cui si festeggia veramente alla grande. Il motivo per ora non lo sappiamo. Nella scena successiva vediamo forse delle zone con delle gang o in generale dei quartieri di certo non sicurissimi. Occhio perché qua, invece, si fa festa alla grandissima. Vediamo, ovviamente, il ritorno degli strip club. Qua, ragazzi, sta succedendo di tutto. In alto c'è scritto Make It Rain, probabilmente, forse, mettiamola così, relativa a far lanciare i soldi come se fossero una pioggia. Qui ci sono due persone che si salutano. Non abbiamo la minima idea di chi siano, però a colpo d'occhio sono fatti molto bene pure i modelli. Ci sta alla grande. E qua c'è una visione dall'alto di Vice City. Possiamo notare che ci sono dei campi da tennis. Anche questa volta, beh, un po' di auto in giro. Il colpo d'occhio, ragazzi, è veramente pazzesco. Mi auguro che questa atmosfera sia effettivamente presente poi all'interno del gioco. Qua poi, ragazzi, c'è l'impossibile. Vediamo di sera proprio una vita movimentata a dir poco. Possiamo notare come ci siano un botto di auto. Molte di queste erano già presenti all'interno di GTA V, credo le possiate riconoscere. Vediamo forse quelli che sono degli hotel. Esatto, c'è scritto Hotel Dixon in alto a destra. E poi addirittura anche un senza tetto che forse sta chiedendo l'elemosina a delle ragazze che passano lì in basso a destra. Si passa poi da quello che prima c'era uno strip club. Qua si passa a un semplice nightclub. Quindi forse sarà una discoteca. Persone si stanno divertendo e ballando. Possiamo notare come ancora una volta un botto di veicoli. Sia c'è un aeroplano, non ricordo il nome di questo, già presente in GTA. E poi possiamo notare come ci sia un altro yacht qua in basso, altre piccole imbarcazioni. E poi due navi cargo. Una più grande e una più piccola. Quindi è simboleggiare che proprio non solo vedremo, che ne so, piccoli yacht o piccole imbarcazioni muoversi, ma proprio grandi imbarcazioni come questi cargo che qua si stanno muovendo. Almeno questo è il trailer, poi bisognerà vedere il gioco. E vediamo un'altra scena, forse una delle più iconiche di questo trailer, che ritrae proprio Lucia. Ebbene sì, lei è proprio la protagonista, quella che abbiamo visto all'inizio del gioco, direttamente con gli abiti da detenuta. E beh, lei sembra forse divertirsi parecchio, le piacerà la bella vita. Vedete, si mette pure in posa, forse qualcuno le sta scattando una foto, perché mi sembra appunto una posa da foto. E poi dietro ovviamente una bella visuale di Vice City. La scritta Vice, che ci va a confermare ancora una volta che questa è Vice City, vabbè, lo sapevamo. E poi c'è questa visuale con il formato verticale, quindi come se fosse, che ne so, un TikTok, un Reel, uno Shorts. E vanno ad indicare persone che, boh, si stanno divertendo come matti. Qua passiamo ad un contenuto invece orizzontale, ma c'è proprio un video di una persona che in realtà sembra essere, non so se un poliziotto, forse no. Qualcuno comunque che si occupa della cattura degli animali feroci, perché questo è un coccodrillo che è entrato in una piscina. Cioè, quindi vanno sempre a farti comprendere come questa città sia folle, assurda, incredibile. E questo è confermato ancora una volta dalla tizia che è sopra di una macchina, sta twercando, mentre è in movimento. Occhio perché qua si apre forse ad uno scenario molto interessante, già anticipato da GTA V. Queste sono proprio corse clandestine, ragazzi, qua. Cioè, palesemente, vedete, ci sono delle macchine che girano intorno ad un'altra macchina. Cioè, stanno proprio driftando intorno all'auto e forse sta per partire una corsa o ne è appena finita una. Quindi questo può anticipare anche il fatto che magari ci sarà una forte, grande possibilità di personalizzare le auto e partecipare a queste corse clandestine. Lo stesso coccodrillo di prima o un altro coccodrillo sembra entrare in un negozio. Un postal ci è scritto in alto a destra. Mi pare che l'avevamo già visto in precedenza su GTA. E qua ci ritroviamo praticamente questo coccodrillo che entra così all'interno di questo negozio e tutti si immobilizzano. Guardate questa persona in basso a sinistra, qualcuno dall'esterno che sembra avere tipo il cellulare in mano forse pronto a filmare. C'è la scena di un'irruzione all'interno di un edificio. Non sappiamo se sono gang o la polizia. Mi sembra però che siano gang queste. Anzi, noi in realtà possiamo notare che è proprio la polizia. Quindi forse vanno a stanare una gang. Un matto che, così come mamma l'ha fatto, corre per strada. E poi ancora una volta un altro matto che si ferma così, al centro della strada, sembra, o forse si è accostato. E possiamo notare altri cartelli con altre zone relative a Vice City e poi questo cartello che indica forse di non fare la pipì per strada o una roba simile. C'è questo tizio che sta innaffiando le piante ma messo in una condizione, ma non lo so. Ancora una volta, in questa fase finale del trailer ti vogliono proprio di guarda quanti matti ci sono in città. E qua abbiamo proprio quello che sembra un rave o in generale è una festa proprio in cui si stanno divertendo la grande. Una persona che fa veramente paura. Questa c'è in mano due martelli e dice guarda un po' chi c'è. Io, ragazzi, a una scena del genere scapperei, eh. Ci ritroviamo questa scena di una persona che ha il volante e sta probabilmente scappando dalla polizia. Stanno andando dalla parte opposta della polizia, quindi forse a breve le macchine della polizia faranno un testacoda per inseguirli. Perché nella scena successiva c'è scritto l'unico modo. E beh, ragazzi, vediamo finalmente il secondo protagonista, ovvero Jason. Lui, in realtà, sembra avere un forte legame con Lucia. Lo scopriremo tra pochissimi secondi. L'unico modo che abbiamo per farcela, e vediamo lei cosa concluderà con la frase, possiamo notare come questa, ovviamente, sia Lucia, la protagonista, insieme appunto a Jason, e ha dei soldi in mano e una bandana. palesemente hanno compiuto entrambi insieme una rapina e quindi adesso stanno scappando. Anche perché nel trailer di sottofondo si sentono proprio le sirene della polizia, quindi è chiaro che hanno appena fatto una rapina e quindi stanno scappando. Lei c'è i soldi... Cioè, proprio è palese. Nelle scene successive ci sono macchine che si ribaltano, non credo però hanno collegamenti con quello che abbiamo visto poco fa. E sembra che lui è stato incastrato, una confessione l'ha incastrato, il suo stesso tatuaggio forse che aveva sul collo. Magari se qualcuno conosce lo spagnolo, scrivetemelo nei commenti. Ok, dice che la cosa più difficile è restare uniti, però non credo che tutte queste persone siano persone a loro legate e con cui Jason e Lucia vogliono essere uniti. Ti fa vedere forse persone così che non so se stanno facendo una corsa con veicoli di questo tipo. Qui c'è scritto infatti che la polizia ha fallito nel fermare tutti questi motociclisti che stanno terrorizzando Vice City. Cioè quindi è una cosa che non è successa una singola volta, a quanto pare. Hag Roller's Lifestyle. Come una squadra. Ecco, forse questa è una persona interessante. Sembra che abbiano messo il suo tag qui. Non so se è proprio lui o sarà un'altra persona. Vediamo Lucia e Jason pronti probabilmente a fare la rapina che abbiamo visto prima. Quindi in pratica abbiamo visto prima il risultato, cioè che sono riusciti a fare la rapina. e adesso che stanno andando forse dal retro di un locale per appunto farla. Perché vedete, sono ancora coperti. Questi forse sono proprio loro che ora stanno scappando con l'auto. Infatti hanno fatto una derapata per scappare in velocità, quindi la rapina è stata effettuata. E questa è una scena importante perché ti ufficializza che entrambi sono fidanzati o in generale sono in una relazione. perché credo siano su un letto. Mi sembra una camera da letto questa. Lì c'è anche una lampada sul fianco. Dietro c'è un quadro. È probabilmente un letto. Ed entrambi si stanno guardando negli occhi. Si stanno per dire qualcosa di importante. Quindi sembra che la cosa sia confermata. Ti fidi? E infatti è proprio quello che stavo dicendo prima. Si stanno per dire qualcosa di importante. Lei dice ti fidi? E lui dice mi fido. Quindi i due sembrano essere veramente molto complici, molto legati e si fidano l'uno dell'altro. E c'è qua la scena con cui danno un calcio a queste porte e quindi pronti a cacciare il ferro per portare a casa la refurtiva. Vediamo quasi tutta la scena di questa rapina. Il prima, quello in mezzo e dopo in maniera confusa da varie scene che però possiamo mettere insieme e collegare un attimino tutto quello che è successo. E abbiamo infine l'ultimissima scena. Il logo ufficiale che viene quindi confermato essere così mi piace molto. Veramente molto bello perché si notano le palme di Vice City. E poi purtroppo viene specificato chiaramente che il gioco arriverà nel 2025. Ci toccherà aspettare più di un anno. Mi sarei aspettato fine 2024 ma purtroppo sembra proprio di no. Arriveranno altri video dedicati ai GTA 6 quindi mi raccomando iscrivetevi ora attivate la campanella delle notifiche così non vi perderete questi nuovi video. in questo video che vediamo In questo video